Cari amici, rispondete a questo piccolo indovinello. Cosa presenta Italia 7 dopo il film serale? La risposta è facile, colpo grosso naturalmente, con... Umberto Smaila! Buonasera amici, buonasera anche la nostra Karen che è la ragazza della settimana. Karen, vorremmo sapere qualcosa sul tuo carattere. Sei una ragazza romantica o sei piuttosto pratica? Romantica? Non dirò molto romantica. A volte mi sogno, ma mi piace mantenere i miei piedi firmamente sul giro. Dice, sono molto romantica, ma non proprio tantissimo, perché a me piace sognare, ma non volo mai in alto. Cerco anche di avere sempre i piedi abbastanza per terra. Comunque, a little bit romantic, yes. Perché in Italia siamo tutti romantici, no? Cosa ti aspetti dalla vita, Karen? Mi piace prendere la vita come viene, con tutte le sue incognite. Mi piace le sfide, i cambiamenti, e per affrontare una nuova sfida ogni giorno. Ok. Dice, mi piace prendere la vita come viene, con le sue incognite. E mi piacciono le sfide, challenges. I cambiamenti, changes, dover fronteggiare qualcosa di nuovo. Quindi dalla vita mi aspetto come sempre cose nuove. Grazie.